All'Ippodromo di Agnano, pittoresca cornice alla disputa del Gran Premio della Moda, una delle più interessanti corse al trotto della stagione, presenziata da sua altezza reale la principessa di Piemonte, che ha voluto assistere anche alla presentazione di nuovissimi modelli italiani da di porto e da pomeriggio, organizzata dal Comitato Napoletano dell'Ente Nazionale della Moda. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.